I ragazzi si caricano Adesso quando c'è il capitano Ah ma anche Marci, è sempre l'ultimo Non posso interrompere se no che faccio due video E tanto è bello questa Raga come li voglio Carichi! Come! Carichi! Come! Carichi! E allora che fa il castellino? Chiugisce! Che fa il castellino? Chiugisce! E stiamo io! Bravo! Bravo! Bravo!